L'inchiesta surgelati scaduti e rimessi in vendita, 5 le condanne che finalmente arrivano. I surgelati scaduti anche da 10 anni venivano rietichettati e messi nuovamente sul mercato. Gli episodi contestati risalgono al periodo che va dal 2008-2010, le accuse, frode in commercio e commercio di sostanze pericolose per la salute. 5 sono quindi le persone che sono state condannate a Torino in un processo per surgelati scaduti anche da 10 anni e poi rimessi e rietichettati sul mercato dalla Salpi Restore, azienda di surgelati di collegno in provincia di Torino. È il primo caso in Italia in cui un giudice riconosce un risarcimento per la lesione del valore del buon mangiare. La sentenza ha condannato i 5 amministratori della società che in un primo tempo si chiamava Salpi per poi mutare nome dopo il primo sequestro di surgelati avariati in Restore. 3 anni e 4 mesi sono stati inflitti i truffatori e accusati a vario titolo e secondo quanto ricostruito dalla Procura i prodotti scaduti, principalmente ittici, venivano regolarmente rietichettati come freschi e rimessi in commercio. Tra le partite di prodotti surgelati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel 2008, c'era anche del pesce scaduta nel 1998. A seguito dei controlli fatti dai NAS è emerso che questa società da diversi anni aveva come politica aziendale, così è stata definita dal pubblico ministero in aula, quella di acquistare grossi quantitativi di merce, riconfezionarli, posticipando la data di scadenza nel caso in cui il prodotto fosse prossimo o addirittura già scaduto. Ovviamente con grave danno al consumatore finale, sia in termini economici ma soprattutto in termini di salute, dato che i prodotti scaduti, l'indicazione appunto della data di scadenza, è proprio a tutela del consumatore. Le pene sono state severe, addirittura una è di anni e tre, mesi e quattro. Penso che faranno appello per cercare di ridimensionare quantomeno la sanzione, ma sicuramente è un segnale che la salute del consumatore va tutelata.